Praticamente denominata la partita della speranza, l'intero ricavato al metodo delle spese verrà devoluto alla cittadella della Caritas di Avellino, progetto di Don Tonino Bello e per quanto riguarda la partita ci saranno tantissimi artisti tra attori, cantanti, calciatori vecchie glorie e giocheremo contro la mitica Avellino tra cui Nando De Napoli, Biancolino e tantissimi altri. Per quando è fissato l'appuntamento? Allora l'appuntamento è fissato per il 18 di agosto, inizieremo già alle ore 17 perché ci sarà un quadrangolare con i bambini under 13 quindi sarà una festa per tutte le famiglie e poi inizieremo lo scontro, chiamiamolo così, tra artisti e nazionale VIP a Avellino proprio il 18 agosto alle 19 agosto. Vi aspettiamo proprio, speriamo di riempire lo stato ragazzi. Ci puoi svelare qualche nome di qualche artista che parteciperà? Sì certo, allora tra i tanti artisti ci sarà Marco Bocci, direttamente dalla squadra di polizia, Daniele Liotti, il mitico Raul Bova, Catarella, Tony Sperandeo, Francesco Benigno, praticamente è la squadra di ultimo, abbiamo preferito di portarli a Avellino a fargli vedere che non sono poi così cattivi e ci saranno anche tanti cantanti, sarà una festa bellissima. Grazie mille. Grazie.